Leclerc andrà veramente a ricevere una penalità in griglia a Las Vegas per aver sostituito il motore? Lo andiamo a vedere in questo video, andiamo a vedere le percezioni di Ferrari, ma soprattutto dobbiamo vedere i soldi spesi e il budget cap a causa degli incidenti dei vari team e dobbiamo commentare anche la consistenza di Leclerc e anche il valore delle posizioni in campionato costruttori per i vari team e quindi anche nello specifico per Ferrari. Prima di iniziare con il video vi ricordo come sempre di lasciare un like, di iscrivervi, attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana andiamo a commentare tutte le notizie a tema auto e Formula 1 e nello specifico a tema Ferrari. Mi raccomando ditemi nei commenti secondo voi se Ferrari dovrebbe sostituire il motore su Leclerc e andare quindi a scontare una penalità in griglia però per essere più competitiva nell'ultima fase di questo campionato oppure se dovrebbe continuare a utilizzare lo stesso motore fino a fine stagione. Ditemi la vostra e ditemi cosa ne pensate anche del mercato piloti e dei soldi spesi sul budget cap per gli incidenti. Detto questo iniziamo subito andando a vedere questo articolo dove ci dice che Leclerc approccia il limite di parti utilizzate al motore e vuole cercare di evitare una penalità ulteriore a Las Vegas perché sappiamo che dal Gran Premio d'Olanda quindi da un po' di gara a questa parte Leclerc utilizza la quarta power unit e l'ultima a disposizione prima di andare in penalità. Sappiamo che il monegasco è al limite su diversi elementi della power unit tra cui l'internal combustion engine quindi l'ICE, il turbocharger, l'MGH, l'MGK, l'energy store e il control electronics e in più è anche al limite dei 5 cambi a disposizione durante la stagione. A disposizione solamente alcune unità dello scarico rimanenti per questa parte finale di stagione. Quindi con tre gare rimanenti in questa stagione sappiamo che il suo motore ICE, quindi il motore endotermico, è stato utilizzato per 7 Gran Premi e incluse due sprint race. Insomma, Leclerc ha bisogno di una quinta power unit il prima possibile però questo vorrebbe dire scontare una penalità in griglia. E cos'è che ha commentato Leclerc? Ha detto che, beh, dobbiamo prendere ciò che è di positivo dal Brasile, ovvero che hanno conquistato un po' di punti e hanno perso solamente 4 punti nei confronti McLaren nel campionato costruttori, questo è quello che ci dice Charles, e quindi è stato un buongiorno quello della domenica in Brasile. A Las Vegas si aspetta di essere più forti e non avremo penalità lì. Quindi questo è quello che ha detto Leclerc, non si aspetta di avere penalità a Las Vegas. Però se la penalità dovesse rimanere qualcosa di inevitabile, quindi che Leclerc deve per forza scontare la penalità perché magari ha dei problemi alla power unit o vedono che la power unit soffre nei confronti degli avversari, beh, Las Vegas potrebbe essere una gara ottima dove sostituire il motore perché l'anno scorso abbiamo visto 82 sorpassi, tra cui l'ultimo sorpasso che ha fatto lo stesso Leclerc su Perez all'ultimo giro per conquistare la seconda posizione. Quindi capite bene che Ferrari ha smentito il fatto di scontare la penalità da qui a fine stagione, però rimane il fatto che se ci dovessero essere delle complicanze, dei problemi all'Ice, dei problemi all'MGH e MGK, beh, si dovrebbe intervenire andando a sostituire a sto punto magari o l'elemento recriminato oppure l'interno power unit. E partire dal fondo a Las Vegas, beh, è molto diverso che partire dal fondo in Qatar o Abu Dhabi. Fa la differenza, riesce a fare più sorpassi e a recuperare più posizioni, però è vero che devi guadagnare molti più punti su McLaren rispetto a quanti ne riusciresti a recuperare partendo dal fondo. Consideriamo che sono 36 punti di differenza tra Ferrari e McLaren nei costruttori e quindi vuol dire recuperare 12 punti a gara nelle prossime tre gare per cercare di vincere il campionato costruttori. Questa è la differenza tra la classifica 2023 e la classifica 2024 attualmente. L'anno scorso avevamo una Red Bull che dominava i costruttori, con seconda posizione Mercedes, neanche Ferrari, poi terza Ferrari, quarta McLaren, quest'anno abbiamo in cima la classifica McLaren con Ferrari a 36 punti, poi Red Bull e poi Mercedes. Insomma, per Ferrari è cambiato tanto lo scenario rispetto all'anno scorso e si ritrovano quasi a lottare per i costruttori e vincere quella classifica. Ma cosa significherebbe vincere i costruttori? Qual è il premio in denaro? Beh, andiamo a vedere adesso questo articolo molto interessante che ci si riferisce al 2023, perché il premio per vincere il campionato costruttori l'anno scorso è stato i 140 milioni di dollari, mentre l'ultimo team nei costruttori ha guadagnato 60 milioni di dollari. Quindi c'è una battaglia aperta tra Ferrari e McLaren per conquistare la vetta dei costruttori e Sainz ha anche detto, cavolo, in Qatar Ferrari sarà un po' più sfavorita rispetto a McLaren, che sembra essere un team più avvantaggiato in quella pista, essendoci più curve veloci, una pista da alto carico aerodinamico e in più è un weekend anche dove ci sarà la sprint race, quindi non sarà facile da gestire. Ormai sappiamo che Verstappen ha conquistato quasi automaticamente il campionato piloti, perché le chance per lui per vincere sono quasi pari al 100%, e vediamo che c'è ancora a decidere chi sarà il secondo pilota a guidare la Red Bull nei prossimi anni. Sarà Lawson, sarà Colapinto o rimarrà Perez, anche quello ne parliamo adesso nel corso del video. Oltre a battaglia da davanti tra McLaren e Ferrari, c'è anche una battaglia molto interessante dal sesto all'ottavo posto, con Alpine, Asse e Racing Bulls che sono in appena 5 punti di differenza, quindi vedremo anche nelle prossime gare chi riuscirà a giudicarsi quelle posizioni. Ma parlando di Leclerc, dobbiamo vedere questa statistica molto importante, che ci mostra che Leclerc ha totalizzato 18 top 5 nel 2024, ed è il numero più alto che ha mai conquistato nella sua carriera, e ha battuto il suo record di 17 top 5 conquistato nel 2019. Quindi vediamo questa classifica, dal 2018, 18-0, 2019-17, 2020-6 top 5, poi 2021-10, 2022-15, 2023-11, e quest'anno 18. Questo ci mostra la costanza di Leclerc che sta avendo in questa stagione, anche in termini di risultati, e che ce lo mette anche sul gradino più alto per lottare per il mondiale nei prossimi anni, perché Leclerc è maturato anche tanto da questo punto di vista. Ma non solo, Leclerc se lo paragoniamo anche a Vestappen e Norris, vediamo che ha il numero più alto in top 5 rispetto a Vestappen e Norris, 18 contro le 17 di Vestappen e i 17 di Norris, e anche il numero più alto in top 4, 15 contro le 15 di Norris e le 14 di Vestappen. Quindi rispetto ai piloti che sono più in alto di lui in classifica, se vogliamo una classifica piloti, beh è riuscito a conquistare più top 5 e più top 4. E dal 1985 ad oggi, quindi sono passati quasi 40 anni, non succedeva che 5 nazioni hanno conquistato più vittorie. Vediamo le 8 vittorie di Vestappen, le 6 vittorie conquistate dai piloti inglesi, quindi Norris, Hamilton e Russell, 3 vittorie dal Monegasco e da Leclerc, 2 vittorie da Piastri australiano e 2 vittorie di Sainz spagnolo. Ultima statistica altrettanto importante, se vediamo invece il numero di pole position conquistate e il rapporto con le vittorie partendo dalla pole, vediamo che Sainz ha il rapporto, diciamo, percentuale maggiore, 100%, è partito una volta la pole e ha vinto quella gara. Poi vediamo Vestappen che è partito 8 volte da pole e ha vinto 5 gare, quindi è stato 2.5%, Leclerc 3 volte da pole ha vinto una gara e poi Norris 7 pole, 2 vittorie dalla pole e Russell 2 pole, 0 vittorie partendo dalla pole. Poi ovviamente ogni pilota ha conquistato altre vittorie durante questa stagione, ovviamente non partendo dalla pole, queste sono le vittorie partendo dalla pole position. Ora, prima di andare a parlare del budget cap, che è un tema molto importante, dobbiamo vedere quali piloti hanno speso di più sul budget cap e che sono pesati di più anche sui team, parliamo ancora delle dichiarazioni di Leclerc che ha detto che non dobbiamo metterci pressione sulla lotta per il campionato, costruttori per Ferrari, perché sì, mancano tre gare, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi, abbiamo detto Las Vegas più a favore ai Ferrari, però c'è l'incognita da sostituzione del motore, Qatar è più a favore ai McLaren, però c'è anche la spin trace e Abu Dhabi è un po' una pista dove se la giocheranno sia McLaren che Ferrari, beh, Leclerc ha commentato anche l'approccio avuto dal team nelle ultime gare, abbiamo visto la vittoria di Leclerc a Austin, la vittoria di Sainz in Messico e è riuscita Ferrari a recuperare tanti punti nelle ultime gare, a parte Brasile dove ha perso un po' nei confronti di McLaren, ma è una pista favorevole al team di Walking e nonostante questo McLaren ha guagnato davvero pochi punti e quindi sarebbe molto importante, soprattutto dopo tanti anni, Ferrari che abbia le chance di vincere un titolo mondiale, sarebbe davvero molto importante, questo è quello che ha detto Leclerc in Brasile e ha continuato che bisogna concentrarsi a fare uno step by step, quindi questo è quello che dice anche Vassur, mai concentrarsi sul campionato in generale, ma su ogni singola gara, quindi ha detto che ci crede veramente nel mettersi a posizione migliore per lottare per il campionato costruttori, però non dobbiamo pensarci troppo, abbiamo un good momentum, quindi un buon momentum che continua per Ferrari con delle buone performance anche superiori a quelle di Red Bull per esempio, però non dobbiamo neanche pensare troppo a lungo termine, ma dobbiamo fare molto bene nel breve termine e questo è quello che è importante e quindi vedremo alla fine della stagione dove saremo, però bisogna concentrarsi gara per gara. Ma arriviamo alla parte più importante del video, infatti ora andiamo a vedere la classifica dei piloti che hanno causato più danni al proprio team e quindi una spesa economica maggiore durante il corso di questa stagione e al top di questa classifica troviamo proprio Perez con quasi 5 milioni di dollari che pesano sul budget cap di Red Bull. Secondo posto per Albon con 4 milioni e 6 che pesano sulle spese di Williams, poi Russell al terzo posto con 3 milioni e 2, però vedete la differenza tra i primi due piloti e Russell che è di circa 1 milione e 4, poi Sargent che però ha perso il suo sedile anche a causa di questa spesa così grande causata al proprio team e poi Sainz al quinto posto con 2 milioni e 8, però se vediamo questa classifica dove Leclerc è al tredicesimo posto con 1 milione e 2, Verstappen al quindicesimo posto con quasi un milione di dollari di spesa causati a Red Bull e abbiamo Norris al diciottesimo posto con quasi 500 mila dollari, con 422 mila dollari di spesa causata a McLaren, beh, vediamo che i piloti di McLaren sono agli ultimi posti, sedicesimo Piastri e diciottesimo Norris, mentre al contrario abbiamo che sia Sainz e Leclerc, ma anche Verstappen e Perez, soprattutto Red Bull, beh, hanno avuto più spese sul budget cap rispetto a McLaren e questa è una cosa che va a incidere tanto perché avere più spese sul budget cap significa che hai meno soldi a disposizione da investire sullo sviluppo della tua vettura e i 4 milioni e 8 di Perez hanno fermato drasticamente la stagione e gli sviluppi di Red Bull perché loro hanno avuto meno risorse a disposizione da investire sullo sviluppo della propria vettura. Vi faccio vedere anche un'altra grafica molto interessante che ci fa capire proprio esattamente come mai Red Bull ha fatto così tanta fatica. Questo è il grafico nel dettaglio gara per gara dove ogni pilota ha avuto delle spese sulla propria vettura che poi hanno danneggiato il proprio team. Vediamo che Perez e Albon hanno una classifica molto alta vedete quanto sono hanno distanziato gli altri piloti e nel corso stagione hanno causato tanti danni al proprio team e questo sicuramente li ha bloccati anche su sui sviluppi. Questa classifica piloti mentre questa classifica team team vediamo Williams supera di gran lunga Red Bull perché anche Sargent ha compromesso anche la spesa del team e anche con la Pinto comunque con l'ultimo incidente in Brasile. Insomma vediamo la differenza tra Williams e altri team che è netta con Red Bull che comunque ha speso tanti soldi stiamo parlando di quasi 6 milioni di dollari spesi a Red Bull su gli incidenti mentre Ferrari al terzo posto attenzione che anche Ferrari comunque ha speso tanti soldi 4 milioni mentre per esempio abbiamo McLaren che è qui ha quasi un milione di dollari quindi capite che c'è di scarto 3 milioni e 5 milioni nei confronti Red Bull e Ferrari con Mercedes che ci posiziona più o meno a metà classifica mentre Williams è uno dei team che ha speso di più guardate stiamo parlando di quasi 10 milioni di dollari siamo a 9 milioni e passa di dollari spesi da Williams per incidenti che ha causato durante la stagione insomma una situazione davvero molto critica vediamo anche i precedenti diciamo vincitori di questa classifica dei Destructors Drivers e Destructors Constructors e vediamo che c'è nel 2019 Albon 2020 Grosjean 2021 Mick Schumacher 2022 Mick Schumacher due stagioni in fila che si è posizionato al primo posto 2023 abbiamo Sarjan vediamo Red Bull 2019 Us Us 2020 2021 e Williams e Williams 2022 2023 Williams che anche questa stagione probabilmente andrà a vingere questo premio diciamo che premio non è alla fine perché è davvero qualcosa di molto negativo per il team e questo ci giustifica anche le performance peggiori durante la stagione di un team rispetto a un altro perché magari ha meno soldi a disposizione da spendere nel campionato in corso e attenzione che guardando questa classifica voglio farvela rivedere Sainz è posizionato al quinto posto con 2 milioni e 8 causando tante spese per il team e per Ferrari che poi hanno in parte anche un po' fermato i sviluppi anche se Ferrari è riuscita a essere molto costante durante la stagione e fare meglio anche di McLaren sullo sviluppo della propria vettura quindi non ha neanche limitata però l'anno prossimo dove avremo due piloti come Leclerc e Hamilton con Hamilton che è un pilota di estrema esperienza e se guardiamo anche la classifica di quest'anno dei danni vediamo che Hamilton è tra gli ultimi posti al diciannovesimo posto per danni commessi quest'anno quindi davvero pochi meno anche di Norris addirittura beh questo è molto positivo anche per Ferrari perché è qualcosa che magari molti non hanno considerato ma il fatto di avere Leclerc e Hamilton nello stesso team comporterà che nel 2025 Ferrari avrà meno soldi meno spesa sui danni commessi sulle proprie vetture e quindi più soldi a disposizione da spendere su altre aree di sviluppo della vettura e questo è qualcosa da considerare Science purtroppo quest'anno ha causato 2 milioni e 8 al confronto dei 300 mila dollari spesi da Hamilton quest'anno e sono tanti 2 milioni e 5 a disposizione per il team su un budget cap di 140 milioni capite bene che può fare la differenza e questo è un win-win scenario anche per Ferrari per l'anno prossimo oltre a Hamilton essere un pilota di esperienza fortissimo 7 volte campione del mondo che darà tanto knowledge anche a Leclerc sulla gestione di un campionato e entrambi sicuramente saranno battaglia per lottare per le vittorie Leclerc forse parte un po' più avvantaggiato conoscendo meglio la vettura però Hamilton sarà comunque lì della partita e dal mio punto di vista causerà meno incidenti rispetto a Science quest'anno non so se sarà la stessa statistica di quest'anno con Mercedes perché probabilmente conoscerà un po' meno Ferrari però comunque è qualcosa da tenere in considerazione Hamilton è un pilota costante che ha tanta conoscenza di come si vince un campionato e questo può far comodo a Leclerc e in più causa pochi danni alla squadra sulla vettura quindi pochi incidenti e quindi meno spesa sul budget cap che può sempre far comodo soprattutto una lotta per il cambiato piloti e costruttori per Ferrari per il 2025 ultimissimo argomento di cui dobbiamo parlare beh sicuramente il sedile in Red Bull perché se lo giocano Perez Lawson e Colapinto vi dico la mia secondo me con l'addio di Perez se ci sarà Red Bull potrebbe pensare anche di prendere ancora una volta un pilota che viene dal Sud America quindi dall'Argentina che sappiamo che è un paese che tifa tanto la Formula 1 ma non ha avuto una rappresentanza in Formula 1 un pilota che corre in Formula 1 da ormai tanti anni avere un pilota come Colapinto in squadra che rappresenta la Sud America può avere tanto tifo anche nello stesso Messico e comunque un pilota veloce perché Colapinto è un pilota veloce può far comodo a Red Bull al tempo stesso Lawson sicuramente avrà una macchina per il 2025 che sia Racing Bulls o Red Bull quindi anche per lui è uno scenario vincente c'è da decidere c'è da decidere secondo me se bisogna mettere l'Oson in Red Bull e Colapinto in Racing Bulls oppure mettere Colapinto in Red Bull e mantenere l'Oson in Racing Bulls oppure mantenere in Red Bull Perez e tenere l'Oson in Racing Bulls però attenzione che ci sono 20 milioni di dollari da pagare nel caso si voglia portare Colapinto dalla sfera Williams Mercedes alla sfera Red Bull per appunto il contratto che ha quindi sono una spesa importante di fare Red Bull che però secondo me potrebbe anche servire perché Colapinto è un ottimo pilota e portarselo in squadra o nella sfera Red Bull può aiutare tanto e così da avere l'Oson e anche Colapinto come scelta magari piazzi Colapinto in Racing Bulls e non lo vuoi piazzare in Red Bull però almeno ce l'hai nella sfera Red Bull e non lo lascia agli avversari e l'Oson al tempo stesso può decidere se metterlo in Racing Bulls o in Red Bull però Perez secondo me è ormai a fine carriera quindi dal mio punto di vista Red Bull prima lo sostituisce con un altro pilota meglio è per loro questo dal mio punto di vista poi vedremo un po' come andrà a affrontare Red Bull questa situazione anche per il 2025 ditemi in commenti come vedete la sfida per il campionato costruttori tra McLaren e Ferrari cosa ne pensate anche della classifica dei distruttori che pesano sul budget cap di ogni singolo team e anche della questione motore di Leclerc se andrà a sostituirlo o meno e da questione anche Red Bull e nel sedile nel secondo sedile appunto il Red Bull di Perez Colapinto o Lawson ditemi la vostra nei commenti sono curiosi leggere e rispondere a tutti quanti vi ricordo ovviamente di lasciare un like di iscrivervi attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale ogni settimana andiamo a commentare tutte le notizie da tema auto e formula 1 vi ringrazio di cuore tutto il supporto e anche di quelli che erano presenti a EICMA ci siamo divertiti abbiamo fatto un sacco di foto è stato un momento bellissimo per condividere diciamo la fiera insieme abbiamo visto anche un sacco di stand insieme è stato davvero davvero molto bello grazie mille a tutti quanti quelli che c'erano in fiera e del supporto che mi avete dato qui da last è tutto vi lascio altri video correlati qui e logo il mio canale qui al centro per iscrivervi e ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video